E' bella a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video di Hunting Simulator 2 Oggi siamo qui per fare una battuta di caccia in modalità cacciatore Già abbiamo preso tutte le armi perché la parte introduttiva è molto ma molto noiosa Quindi abbiamo le armi, le equipaggiamo ora e ci avviamo nella nostra avventura Vediamo prima le licenze che possediamo Quindi andiamo qui Licenze Bigborn Cinghiale Andiamo a cinghiali? Penco il fucile adatto 12 grammi Se io tengo il 12 grammi Ah no eccolo, 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 eccolo Punto 308, secondo me ce la facciamo Arma mirino 1 Io vado a sparare senza mirino Compriamone 1 Andiamo a dormire Mettiamo sera perché di sera ci sono i cinghialotti Andiamo qui, armi, mirino, mettiamo questo qui Oggetti Oggetti Prendiamo un dolce Cinghiali Ora abbiamo qui il richiamo Mazzi non l'ho dita la forestale che abbiamo il richiamo perché se no ci arrestino Cinghiali qua no Cinghiale qua sì Ora ci facciamo un bel giro In questa pianura molto ma molto vasta Aspettiamo che carica Non mi dire che non ho preso il cane Speriamo che l'ho preso Senza cane Non l'ho preso Non l'ho preso, non l'ho preso il cane Torno nella resilienza Eccoci qua Corri, cervetto Come acquistane prima uno Non l'ottenevo il mio Compagni Ah Ma non era già in Madonna 2500 Ma il gioco che si è preso Non dove si è buggato Andiamo senza cane Non è un problema Solo che a cinghiali Senza cane La vedo un po' difficile No Però almeno notte la possiamo mettere Perché il giorno proprio non Nel meno notte me lo dovrebbe mettere Ora Si dai Più o meno è notte Perché il sole sta tramandando Ma non l'ho preso Madonna C'era ragazzi Non trovo quando la gente è stupidissima Qua si possono equipaggiare gli oggetti Menù Cambio equipaggiamento Oggetto Seleziono oggetto Uno Eccolo qua Ma non è che si può fare da qui Cambio compagno Non ne tengo manco uno Ricarica munizioni Viaggio veloce Ma che fa un giletto E andiamo il nostro fucileno Sì però qui non è giusto Andiamo andando al cane Bisogna aver sparato uno a uno Cioè guardate qui Là ce n'è uno Calibro errato Cioè guardate qui Allora 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 Prima Eccolo qua Una traccia Ma stavo dicendo Che prima Le tracce verità c'è che prende mo lince rossa licenze m no facciamo il giletto da qui che troviamo troviamo una tenda ma do no 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 fermi 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 due cinghiali mi hanno visto mi hanno già loro come mi hanno fatto a vedere ma non me lo devono spiegare prendiamoci la tenda qui dopo ne andiamo a prendere due cinghiali erano ci sono fessi no bimpiamola questa qui video editor bippa questa parola che ho detto mo detto che ah erano verso cos'è qui un coguaro che lopo eccolo 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 che Grazie a tutti. Oh, se l'ho preso, ma non l'ho preso, perché mi sembrava una pietra, non si muoveva. L'ho sprecato quattro colpi, sì o no? Sì, perché qui me lo segnava. Madonna, un cinghiale. Quanti colpi tengo? Carica. Allora, allora, allora. Qualcosa la dovrò trovare. Allora. 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 Andò è andata a padella. Salve. 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 Tengo il fucile scarico. Possiamo giocare insieme? Buongiorno, non tenevo sottotiro Allora, torniamo alla tenda Può fare il viaggio veloce qui, sì Allora Carichiamo il fucile che almeno Vi schippo tutto il viaggio Andiamo qui Schippo tutto il viaggio perché voglio far durare Ma quando li ho messi a panino Ero qui Quindi loro come minimo si dovrebbero essere spostati No, qui Ah, guarda Allora, allora Eccolo lì 100 metri, 100 metri Povero gabbiano Hai perduto la compagna L'ho battuto Non ci credo Sinceramente no, non ci sto Mi dispiace, non ci sto Così non si può giocare Prenderò provvedimenti assolutamente Madonna mia Madonna mia No, 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 no Fermi tutti L'ho preso in testa Sì non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo da 76 metri oh un culo Piero guarda qui Piero vedi non si uccidono i cinghiali adulto pure si ma un altro dai non ne vuoi prendere un altro questo uccisero lo dedico a Piero ma ci compriamo un bel cagnolino no la propria lì Boom magazzi se ne riusciamo a troverlo non lo ... allora non avrebbe risposto quello sarà una lince lince rosse una lince non era non era una lince quel verso lì e niente ragazzi per questo video è tutto ci vediamo in un prossimo episodio di hunting simulator che sicuramente porterò quindi per questo video è tutto da karate10 out